Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profumi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede ad essere prossimi dei più piccoli e abbandonati, a dare loro una speranza concreta. Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profumi. Sono passati quasi due anni dall'appello straordinario che il Papa rivolse all'Angelus del 6 settembre 2015 e da allora oltre 5.000 migranti in più sui 122.000 già presenti in Italia sono stati accolte dalle parrocchie italiane. Tra le chiese che hanno subito spalancato le loro porte c'è quella romana di San Fedele Martire che dall'ottobre scorso ospita la giovane Noura Jahmad e suo figlio Ayam al-Nabulsi, fuggiti dall'orrore della guerra in Siria, poi arrivati nella penisola l'8 giugno del 2013, giorno del compleanno di Ayam e inizio di una rinascita. Nel quartiere periferico di Pietralata, oltre alla protezione all'asilo politico, Nour e Ayam hanno trovato una casa vera e propria, una quotidianità scandita dalla scuola, dai servizi in parrocchia, dal far parte finalmente di una comunità e ovviamente la speranza di un futuro senza le bombe. Ho lasciato mia famiglia, mia città, i miei amici, i miei parenti e tutta la mia vita. Tutta la vita è cambiata, non c'è niente come prima. Tante persone sono morti, tante persone scappate. Quando sono arrivata qua, in questa parrocchia, ho trovato una casa ben ordinata, non manca niente, la comunità era simpatica e Don Fabrizio è sempre molto gentile. Quando viveva a Damasco, Nour insegnava arabo agli stranieri, ora sta facendo uno stage come receptionist in un hotel della capitale, ma non è facile per lei trovare un lavoro, perciò tutto ciò che le serve per vivere dal cibo ai vestiti le viene fornito dalla parrocchia, insieme all'affetto della gente che colma la solitudine. Lo scorso 19 giugno, nella sala della musica del Palazzo Lateranense, Nour ha incontrato Papa Francesco insieme ad altri 40 rifugiati e operatori della Caritas e l'abbraccio col pontefice le ha regalato una gioia immensa. È stata una giornata speciale, una giornata bellissima. Lui era molto gentile, molto semplice. Ha detto che sono contenta perché adesso ho incontrato. Speriamo di finire la guerra in Siria e brighiamo per la pace in Siria. Ha detto che ogni giorno faccio brigare per Siria e anche per il popolo siriano. Ma sempre il Papa Francesco, sempre con i rifugiati, con tutto il popolo in tutto il mondo, sembra che lui aiuta tutto. Eh sì, mamma, se io non vivo adesso in questa casa, non lo so dove vivo. Ayam, oggi ha 12 anni, promosso a pieni voti, a settembre frequenterà la seconda media e nonostante il dramma della fuga da Damasco, ci insegna a sorridere e a sorprenderci delle piccole cose. La grande vuole fare il chirurgo toracico perché ciò che gli interessa di più è salvare la vita delle persone. Al Papa, in quell'incontro del 19 giugno, ha portato una lettera in cui racconta la sua storia, la benevolenza da cui è stato circondato, i tanti amici che ha trovato qui, la passione per il calcio, il cricket, l'amore per la Roma antica. In arabo il suo nome vuol dire ragazzo scaltro, intelligente, e lui nonostante la sua giovane età ha già compreso, prima degli adulti, che la fratellanza è la più universale delle religioni. Una religione diversa dall'altra non crea problemi. Basta tu sai convivere, convivere e star bene con l'altro. Nel suo cuore ora c'è l'Italia, Maiam tornerebbe a Damasco solo per poter riabbracciare la sua nonna. Lo ha confidato al Papa che ha promesso di pregare per questo, oltre che per la pace in Siria.